space bentornati a tutti ragazzi e ragazzi sono Alexerio Max e siamo ritornati sul grande prototype. Nello scorso episodio abbiamo salvato il culo alla nostra ex attraverso l'apprendimento per controllare un APC, una specie di carmatino molto carino 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 ma anche devastante e adesso stavamo vedendo vede stavamo per andare a vedere stavo per andare a vedere che cavolo dobbiamo fare allora pronti si salta però ragazzi tanta roba è pronta però vero che la serie vi stia piacendo quanto a me io mi sto divertendo un casino cioè ragazzi un po' di etico ok entriamo e vediamo abbiamo scoperto nello scorso episodio che il 4 per cento della popolazione è infetta da un virus chiamato mersa ok 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 niente di più facile e lo penso anch'io caro amico mio ma io voglio vedere anche una cosa se me lo fa fare eh ok dico ho preso un bel po' di punticini e infatti combattimento poteri eccolo qua oh si ragazzi oh si ragazzi poi cosa abbiamo potere pugno martello no? movimento corsa salto scatto 2 eh si ragazzi eh si ragazzi salto scatto scatto aereo turbo migliorare velocità e distanza scatto aereo di superaereo no sopravvivenza camuffamento lancio in corsa questo si sembra utile ok mentre camuffamento attaccare boh io direi per adesso va bene così perchè quel potenziamento lo volevo da troppo lo scatto va bene ok dopo lo voglio provare assolutamente dopo lo voglio provare ok sfrecciami in mezzo agli alberi ok non c'è niente di meglio che scalare game stop ok va bene anche su sti giochi c'è game stop va bene allora qui siamo già nel territorio territorio infetto se non sbaglio apriamo della propria cavolo successo sta marcendo toris e batizette semicubatrice che ci sono o cavolo mi sa che non mi piace la cosa qualcosa mi dice che devo attivare gli artigli che cavolo allora eccolo qua ecco 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 come ci fa di attivare non mi ricordo oh questa latina non è massimo ma va bene che cazzo ora ok così la schivata adesso ci prendiamo un po' di energia ecco ecco il fastidio sono gli elicotteri Però, vi faccio questo Questo? No Ok Quello è il materiale genetico? Con la cosidina gialla? Sembra di no Coglia Allora, materiale genetico Andiamo a vedere su queste schiette Lì in basso a sinistra Qual è? Questo? Questo qua è in alto? Andiamo un po' Forse è quello là Ah, è questo qua Ok Sì Cosa buona e giusta, ho capito Allora Mandatevene via Fulci Ok, qui c'è un'altra Salta Ok Da noi sono troppi gli elicotteri Eccolo là, no? Eh, ce la facciamo Grande A me il materiale Allora Poi, poi così là Eccolo lì Con calcio potentissimo Allora Ok, questa è l'impresa Questa è l'impresa Ok Eccolo là Mamma mia che calcio Sì, però non ci sono arrivato Eccolo Oh no Ma che cavolo C'è gli artigli Potentissimi E lui Aia Oggi gli elicotteri Oggi gli elicotteri Però che attacco ragazzi Olè Oh sì Oh sì Mamma mia piace troppo Io ti mi piace molto Allora il prossimo dov'è? Vedete, ci chiamo di farlo fuori No, quella è l'impresa Però No, quella è l'impresa Ma la sopra Madonna, ma quanti in alto? Un serbatoio dell'acqua Ma, la mia Eh, questo è grosso Mi sa che non ce la facciamo Sì, ce l'ho fatta invece Ok Adesso Allora Comuniciamoci un po' C'è una Una cosa che fa così veloce Grandissimo Vai all'alzerare E raccogliamo Ok Fuoco Olle Ok Ovvio perché sono il più furbo Eccolo lì Allora Via a raccogliere le I pallini gialli Ok No time for props boys Get on down to the final red zone E clean it up Allino giallo Madonna che casino ragazzi Allino giallo Allino giallo Non devo abbandonare Comunicamento Per tutto Veramente E' un casino Poi Non mi pare che quello di A presto Veloce Grazie ragazzi Siete sempre utilissimi Ma spiuta anche Persone Per fortuna La vita non mi scende Almeno questo Ehi allora Oh grazie Ha distrutto il caramacco Ragazzi Ragazzi Ve lo taglio E poi E poi Vi riattacco Dopo che ho Dopo che ho Dopo che ho fatto il tutto Perché sennò qua ci mettiamo Due ore e mezza Aspettiamo Ci vediamo Franto Ok rieccomi qua Ce l'ho fatta Dopo un'ora e mezza Wow Sì Ok Allora io direi E' stata un po' Così come puntata Ve la faccio un po' Un po' più lunghezza Dai Vediamo che cosa succede Poi dopo Che abbiamo acquisito Sto materiale Dai Allora Ok Sì 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 Ho capito Non mi interessa Devo fare troppo veloce per voi Ci facciamo prendere Ok Però qua Mizzica Sono nella Nella zona Dei Wow Ok Che mi sembra Tanto la zona Dall'inizio del gioco Massimo Massimo altro che Spider-Man Ragazzi Chi se ne frega Delle ragnatele Preferisco Mille volte Questo Ok Andiamo al camuffamento Lo c'entro Lo c'entro Dai Ce l'ho vicino Dai Vediamo un po' Vediamo un po' Oh Ok Ok Siamo stati abbastanza cattivi e oggi Mcmuller Me lo ricorderò sto nome Vediamo un po' Va Oh si è ritornato il caricamento Mi accerimo nemico Ti fai sempre vedere? Comando Red Crown Battery Park E' ho notato E quindi? Sì Va bene Ho capito tutto quanto Ecco Questo è un problema Va che sei proprio furbo E' entri in una fortezza E poi Aspetta 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 Sennò qua facciamo un casino Come sempre Io Io le mie stupide idee Ho detto Ma dovrò attivare Il camuffamento Sì Va benissimo Anche questa è una cosa utilissima Sì Scusate Scusate E quanto casino Miseria Do Sono uno qualsiasi Che passa in mezzo Così E' quello Solo Mi fa come Ok Io direi facciamo una E' quello E' quello E' una cosa Che non bisognava fare Ok Ce ne dovrebbe essere un'altra Scusate Errore mio Ok Nell'acqua non può andare Eccolo qua Allora Con calma Ecco adesso è arrivato quello Ecco di nuovo Ma perché sono così pirla Madonna che sbagli i pulsanti Puzza la schifosa Ok Dai sputtamelo di nuovo fuori Ok No Voglio lui Oh ce l'abbiamo fatta Stavolta facciamo il Oh grande Ale ce l'abbiamo fatta Mamma mia ragazzi Questi pulsanti Ah contaci Non è quella cosa che fa No eh Forse E adesso Quindi Che mi stanno ammazzando In una maniera bruttissima Ok la vedo un teschietto Quindi Suppongo che dobbiamo andare là Ok Adesso che siamo così Prendiamoci Prendiamoci un po' di vita Un po' di vita Passiamo di qua Ce la faccio Ce la faccio eh Che sono enormissimi sti Sti palazzi Puzzola Ok Che cosa devo fare? Ah infatti è quello che ho visto Ah infatti è quello che ho visto Quindi Lo rubiamo? Direi di sì Ok Ok Ehi Tu ho bisogno sotto il tuo piccolo mezzo Ok Niente di più facile Chi è che mi spara? Ok Quell'affarino là Aspetta direi che devo andare prima sul teschietto Al posto dell'affarino blu Vieni di qua Allora 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 Ecco ci ha visto Arca miseria Scusi Mi serve anche a lei il suo piccolo mezzo Sì un po' di salvo Cosa volete che sia Ok Poi c'è questo che devo eliminarlo Ok Fatto Al prossimo Via Direi che mi serve Tu Una ginocchiata pazzesca Mi serviva un travestimento Wow C'è un bel po' di traffico Mamma mia Guardate che figa la miglioria ragazzi Vediamo se ce la faccio Eh no Abbiamo ancora un piccolo Un salto abbastanza debole Adesso che non siamo vicini Direi Che non è un problema Ok Adesso Ok Ce la faccio Forza Mamma mia Però che brutto Questo qui Non potete sceglierne uno più bello Missile fuori Perfetto Allora Il prossimo luogo Di là Allora Perfetto Quanti ce ne sono oggi Però ragazzi Mi sa che Ve lo strutturerò in due parti va Oggi Questo piccolo video Farò parte 1 e parte 2 Molto probabilmente Perché siamo già a 10 minuti Aia Sarà Dai che ce la faccio Dai Se non mi fucilate Ce la faccio Uh cosa abbiamo schivato Ok Grazie per il mezzo Ok Allora Rivediamo un po' Dove siamo Ok C'è un mondo Adesso spiro bottini del cavolo Ok Niente di più facile Ma ce ne sono Un'infinità Non finiscono più Permesso Mamma mia Su via Eh madonna Quante persone ci sono Schiva un po' il traffico Allora Alla terza via Ok A destra Un po' troppo largo Mettiamo il nostro Dai Che cavolo è quel cotto Alla rovescia Che cavolo è Non ne ho la mia idea Che cavolo è Oh Mi fa paura Forse li devo eliminare Tutti prima che scada il tempo Sì Grande Ale 20 secondi Finita Finita direi Credo Forse Sì Yes No Madonna Ma porca punta Sì Vabbè Se no Qua non ci Ci mettiamo Un anno Va Diamo di qua Permesso Su via Mamma mia Ragazzi È lunghissimo Allora C'è uno Lì davanti a noi Vedete che si Schianta davanti Al nostro povero Caramato Allora Minchia C'è anche un elicottero Io come faccio Contro l'elicottero Allora io direi Facciamo prima A fare l'elicottero Niente di più facile Poi Ok Questo è andato Ok Andiamo alla prossima Che ci sta prendendo fuoco Noi ci credo Solo io Riduco i mezzi così Allora Ecco il Proprio un caratterezzo Ci serviva Ce la faccio da lontano Sì ci faccio No 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 Non deve chiamare la squadra D'attacco Eh punto Dov'è? Chi c'è cosa c'è Quello mino Trama degli intrighi Che mi gusta No Vabbè un po' di Un po' di Ecco Come liberarsi Di un colpo inutile Ma allora Se voglio prendere quello là Ok ce l'ho fatta Vediamo cosa ci dice Wow Avevo trovato una persona Bastata carina Con lo smoky Che è tutto il resto Si Dobbiamo soltare Ah Era una parca Radutisti Wow Questa era una roba Roba forte ragazzi Allora Muoviamoci però Allora Abbiamo una squadra D'attacco Che ci rompe le scatole Io direi Mascheriamoci Lo stesso La stessa persona di prima Non ci credo Non ci ho visto Vero no Perfetto Ok Sempre con questo gesto atletico Dai che ce la faccio Ok Ok Perché è bello Che se qua ti lanciano un missile Mentre stai fregando il Il caro armato Devi cominciare da capo Più che giusto Ok Eh vai Eh sempre la squadra d'attacco Che mi rompe le balle Ok Questa c'è morto Quell'altro c'è morto Dov'è l'ultimo Elicotterino Ok Abbiamo finito Abbiamo finito Ok Allora Con oggi abbiamo concluso La seconda parte Del Dell'episodio Perché Non mi ricordo che episodio siamo Forse quarto Barra quinto E oggi sarà un bel episodio lungo Quindi lo strutturerò in due parti Questa era la seconda parte E io vi dico Mamma mia ragazzi Sì Con persone che mi colpiscono Continuamente Ok Vediamo che cosa succede Prima di salutarvi Direi che fosse la scelta più giusta Mettere la quarantena L'unica cosa da fare Ok 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 Macmuller Ti troverò Ti ammazzerò Con così tanta enfosi Interessante Chissà per mano di chi Ok Io vi direi Che Se non ci dicono altre cose Grazie caricamente Sei sempre ben accetto Evapora via No eh Non vai andartene Ok Sesto giorno Eh Che ha già il 20% A 4 giorni Era soldato il 4% Allora Io vi direi ragazzi Con oggi va bene così Vi dico Commentate l'episodio Condividetelo Mettete mi piace Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale Se non vi siete ancora iscritti A questo fantastico canale di gameplay E io vi dico Ci vediamo A un prossimo episodio Continuate a guardarmi Shagari ragazzi Shagari Shagari Shagari